I signori viaggiatori in reti a Monaco di Baviera sono obbligati di portare con sé il pijamman. La normativa tedesca sulla dispersione di energia termica non consente ai clienti degli alberghi di dormire in chiudi ma con il pijamman. Sto partendo per Monaco, ma c'è il pijamman with you, mi dicono che devo portare in, porterai il pijamman tu. I tedeschi si arrabbiano se tu dormi nudo, sai non è possibile più, perché il nudo gli consumi più riscaldamento. Metti il pijamino su, pijamman, pijamman devi mettere a post, pijamman, non ti scopri non ti fai il pre-cost. Porta il tuo pijamman prima che te lo fanno più su, riporta il tuo pijamman. Pijamman, se flanella quello scaldati più, oh yeah. Pijamman, 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 pijamman non fa schifo, no. Pijamman, 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 pijamman. Pyjama, pyjama, pyjama non tu sguardo più, un amico sul scurtaio, pyjama non trovai, in albergo non c'è entrato più, appena arrivo il letto e scurtano così, non riesci neanche a farla pipì. Pyjama, 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 oh pyjama pure tu, pyjama, 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 a quello non tu sguardo più, oh yeah. Pyjama, 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 pyjama No pijamen, no pijamen, no pijamen, aieee, cosa essere questo casinen, forza tutti i nudi fuori senza pijamen, al freddo.